pirandello da sé un carro di prima classe con cavalli bardati e impennacchiati cocchiere staffieri in parrucca i suoi parenti non lo avrebbero preso di certo per lui ma uno di seconda mano sì almeno per gli occhi del mondo 250 lire prezzo di tariffa la cassa poi seppure ad abete non di noce o di faggio nuda non l'avrebbero certo lasciata sempre per gli occhi del mondo coperta di velluto rosso anche di infima qualità con borchie e maniglie dorate a dir poco 400 lire poi una buona mancia a chi lo avrebbe lavato e vestito da morto bel servizio spesa per la papaglina di seta e per le pantofole di panno spesa per le quattro torce da accendere ai quattro angoli del letto mancia ai becchini che avrebbero portato a spalla il feretro fino al carro e poi dal carro alla fossa spesa per una corona di fiori almeno una santo dio poi lasciamo la banda municipale che se ne poteva far di meno ma un paio di dozzine di ceri per l'accompagnamento delle orfanelle del boccone del povero che vivevano di questo cioè delle 50 lire che si davano loro per accompagnare tutti i morti della città e chissà quant'altre piccole spese imprevedibili tutto questo matteo sinagra avrebbe fatto risparmiare ai parenti andando coi suoi piedi ad uccidersi economicamente al cimitero davanti al cancelletto della sua gentilizia in modo che con pochissima spesa lì stesso dopo l'accesso del pretore avrebbero potuto cacciarlo dentro a quattro assi nude senza neanche dargli una spazzolata e calarlo giù dove riposavano da un pezzo il padre la madre la prima moglie e i due figliuoli che ne aveva avuti i morti hanno l'aria di credere che il forte sia a perdere la vita e che tutto sia finito con essa per loro senza dubbio ma non pensano all'orribile ingombro del corpo che resta lì duro sul letto uno o due giorni e ai fastidi alle spese dei vivi che pur piangendogli intorno debbono liberarsene sapendo quanto costa questa liberazione in un caso come il suo cioè di morte in buona salute i signori morti volontari potrebbero far due passi fino al cimitero e andare a riposarsi tranquillamente da sé ecco non avevo ormai da pensare ad altro matteo sinagra la vita gli sera tutta un tratto come vuotata ad ogni senso quasi non ricordava più con precisione ciò che vi avesse fatto ma sì di certo anche lui tutte le sciocchezze che si fanno di solito senza accorgersene con molta leggerezza e grande facilità sì perché era stato anche abbastanza fortunato lui fino a tre anni fa non gli era mai riuscito nulla difficile né mai sarà fermato un momento perplesso se fare o non fare una tal cosa se prendere questa o quella via sarà gettato con gaia fiducia a tutte le imprese sarà incamminato per tutte le vie ed era andato sempre avanti superando ostacoli che forse per gli altri sarebbero stati insormontabili fino a tre anni fa tutto un tratto chissà come chissà perché quella specie destro che per tanti anni lo aveva assistito e spinto innanzi alacre e sicuro gli sarà spento quella gaia fiducia gli era crollata e insieme erano crollate le imprese finora sostenute con mezzi ed arti di cui ora improvvisamente quasi con sgomento non si sapeva più render conto egli stesso tutto così da un giorno all'altro gli sarà cangiato oscurato anche l'aspetto delle cose e degli uomini sarà trovato all'improvviso a tu per tu con un altro se stesso che gli non conosceva affatto in un altro mondo che gli si scopriva adesso per la prima volta attorno duro tuso opaco inerte in prima era rimasto quasi con quello stordimento che il silenzio cagiona a coloro che vivono in mezzo a un fracasso di macchine allorché dun subito vengono fermate poi aveva considerato la rovina non sua solamente ma anche del padre e del fratello della seconda moglie che gli avevano affidato grossi capitali ma forse il suocero il cognato pur soffrendo di gravi danni si sarebbero rialzati la sua rovina invece era totale sarà chiuso in casa schiacciato non tanto dal peso della sciagura quanto dalla coscienza dell'irrimediabilità del guasto misterioso avvenuto così fulmineamente nel congegno della sua vita muoversi perché perché uscire di casa inutile ogni atto ogni passo inutile anche parlare zitto rincantucciato in un angolo era rimasto a guardare le smanie e le lacrime della moglie disperata come un insensato tutto barba e tutto capelli finché non era venuto sulle furie il cognato a cacciarlo fuori a spintoni dopo averlo fatto tosare a viva forza c'era da fare qualche cosa da guadagnare dieci dirette al giorno mettendosi per galoppino a servizio ad una piccola banca agraria che si era aperta aurora che stava a covare lì su quella sedia fuori fuori non bastava il danno arrecato finora voleva anche vivere con la moglie le due piccine alle spalle delle sue vittime fuori 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 ecco qua era uscito di casa da alcuni giorni si era messo a fare il galoppino per conto di quella piccola banca agraria il cappello spelato l'abito stinto le scarpe sdrucite e un'aria dall'occo che consolava nessuno lo riconosceva più matteo sinaglia quello lì non si riconosceva più neanche lui stesso per dire la verità e quella mattina finalmente era stato un amico un caro amico del buon tempo a chiarirgli la situazione chi era più lui nessuno non solo perché aveva perduto tutto il suo non solo perché sarà ridotto in quella misera avvilente condizione di galoppino con l'abito stinto il cappello spelato le scarpe sdrucite no no non era più veramente nessuno perché non c'era più niente in lui fuorché l'aspetto eppure esso tanto cambiato irriconoscibile di quel matteo sinagra che gli era stato fino a tre anni fa in questo galloppino uscito orora di casa né lui si sentiva né gli altri lo riconoscevano e dunque chi era lui un altro che ancora non viveva che bisognava imparasse a vivere semmai una nuova vita meschina affliggente da dieci li rette al giorno e ne valeva la pena matteo sinagra il vero matteo sinagra era morto morto assolutamente tre anni fa questo gli avevano detto con la più ingenua crudeltà gli occhi di quell'amico incontrato per caso quella mattina ritornato in paese dopo circa sei anni d'assenza questo amico non sapeva nulla della sciagura di lui passando per via non lo aveva riconosciuto matteo ma come sei tu matteo sinagra dicono ma come e gli occhi quegli occhi erano rimasti a mirarlo con tale espressione di smarrimento e insieme di pietà e di ribrezzo che egli tutta un tratto sarà veduto in essi morto assolutamente morto senza più neanche un briciolo in sé di quella vita che matteo sinagra aveva avuto e allora e allora appena quell'amico non sapendo più trovare una parola uno sguardo un sorriso da rivolgere a quell'ombra gli aveva voltato le spalle aveva avuto l'impressione strana che tutte le cose a un tratto proprio gli si fossero votate d'ogni senso tutta la vita gli si fosse fatta vana ma da ora soltanto e no per dio da tre anni così da tre anni era morto da ben tre anni e ancora stava lì in piedi camminava respirava guardava ma come se non era più niente se non era più nessuno con quell'abito addosso di tre anni fa con quelle scarpe di tre anni fa ancora ai piedi via 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 non si vergognava un morto ancora in piedi a cuccia là al cimitero tolto di mezzo l'ingombro di questo morto alla vedova alle due orfanelle avrebbero pensato i parenti matteo sinagra lo sa perfettamente che è un morto un morto vecchio anche un morto di tre anni che ha avuto tutto il tempo di votarsi ogni rimpianto della vita perduta ora è leggero è zero una piume ha ritrovato se stesso è entrato nella sua qualità d'ombra di se stesso libero d'ogni ostacolo scevro d'ogni afflizione esente d'ogni peso va a riposarsi comodamente ed ecco quella via che conduce al cimitero a farla così da morto per l'ultima volta senza ritorno gli si presenta in un modo nuovo che lo riempie di una gioia di liberazione che è veramente già fuori della vita oltre la vita i morti la fanno in carrozza chiusi e saldati in una doppia cassa di zinco e di noce e gli cammina respira può volgere il collo di qua e di là a guardare ancora e guarda con occhi nuovi le cose che non sono più per lui che per lui non hanno più senso gli alberi gli alberi guarda erano così gli alberi erano questi e quei monti laggiù perché quei monti azzurri con quella nuvola bianca sopra le nuvole che cose strane e là in fondo il mare era così quello era il mare è un sapore nuovo all'aria che gli entra nei polmoni una suavità di refrigerio sulle labbra nelle narici l'aria l'aria che delizia la respira la beve ora come non l'ha mai bevuta di là nella vita come nessuno che stia nella vita può berla è aria come aria non respiro per vivere tutta questa infinita avvolgente delizia mica la possono avere gli altri morti che se ne vanno per quella via in carrozza tesi stirati attuffati nel buio d'una cassa neanche i vivi la possono avere i vivi che non sanno che cosa voglia dire goderla dopo così una volta e per sempre eternità viva presente fremente ancora è lunga la via ma egli già potrebbe fermarsi qui è nell'eternità vi cammina vi respira in un'ebbrezza divina ignota ai vivi mi vuoi portami con te un sasso un sasso della via e perché no matteo sinagra si china l'oraccata lo pesa nella mano un sasso erano così i sassi erano questi sì eccolo un piccolo frantume di roccia un pezzo di terra viva di tutta questa terra viva un frantume dell'universo eccolo qua in tasca verrà con lui e quel fiorellino ma sì anch'esso qua va all'occhiello di questo morto che se ne va da sé così alieno sereno e felice coi suoi piedi alla sua fossa come una festa col fiorellino all'occhiello ecco l'entrata del cimitero un'altra ventina di passi e il morto sarà a casa sua niente lacrime ci viene da sé con passo svelto e con quel fiorellino all'occhiello fanno un bel vedere questi cipressi di guardia al cancello no è una casa modesta in vetta un poggio tra gli olivi ci saranno sienò un centinaio di gentilizie senza alcuna pretesa d'arte cappellette con un alterino il cancelletto e un po di fiori attorno è proprio per i morti una dimora invidiabile questo cimitero lontano dal paese i vivi ci vengono di raro matteo sinagra entra e saluta il vecchio custode che sta seduto davanti all'uscio della sua casetta a destra dell'entrata con lo scialle bigio di lana sulle spalle e il berretto gallonato sul naso e il pignocco pignocco dorme e matteo sinagra resta a contemplare quel sonno dell'unico vivo fra tanti morti e in qualità di morto ne prova dispiacere una certa irritazione sia un bel dire fa bene ai morti pensare che un vivo vegli sul loro sonno e stia in faccende sopra la terra che li ricopre sonno sopra sonno sotto troppo sonno bisognerebbe svegliare pignocco dirgli eccomi qua sono dei tuoi sono venuto da me coi miei piedi per far risparmiare un po di soldi ai miei parenti ma è questa la cura che tu ti prendi di noi oh via che cura povero pignocco che bisogno di custodia hanno i morti quando ha annaffiato qua e là qualche aiuola quando ha acceso in questa in quella gentilizia qualche lampadino che non fa lume a nessuno quando ha spazzato le foglie morte dei vialetti che altro gli resta da fare non fiata nessuno lì dentro il ronzio delle mosche allora e il lento stormire degli smemorati olivi sul poggio lo persuadono a dormire sta in attesa anche lui della morte povero pignocco e in questa attesa ecco qua provvisoriamente dorme sopra tanti morti che dormono per sempre sotto forse si sveglierà tra poco allo scoppio secco della rivoltella ma forse neppure è così piccola la rivoltella e lui dorme così profondamente e più tardi verso sera allorché prima di chiudere il cancello si recherà in giro a fare un'ultima ispezione troverà un ingombro nero in quel vialetto là in fondo oh che roba è questa niente pignocco uno che deve andare sotto chiama chiama che gli apparecchino il letto giù alla meglio senza tanti riguardi per risparmio di spese ai parenti è venuto da sé e anche per il piacere di vedersi così prima morto tra i morti a casa sua arrivato a destino in buona salute con gli indasca il sasso che si è seccato anch'esso di stare al sole sulla strada e lascia gli anche il fiorellino all'occhiello che è la sua civetteria di morto in questo momento se l'è colto e se l'è offerto da sé per tutte le corone che i parenti e gli amici non gli offriranno è qua ancora sopra la terra ma è proprio come se fosse venuto da sotto dopo tre anni per curiosità di vedere che effetto fanno sul poggio queste tombe gentilizie queste aiuole questi vialetti inghiaiati queste crocinere queste corone di latta nel campo dei poveri un bell'effetto veramente e zitto zitto in punta di piedi matteo sinagra senza svegliare pignocco si introduce è ancora presto per andare a dormire vagherà per i vialetti fino a sera curiosando da morto si intende aspetterà che alla luna e buonanotte